Dopo due anni dall'uscita in Giappone, Yakuza 0 giunge finalmente anche in Europa. Si tratta di un prequel che mostra come Kazuma Kiryu e Goro Majima, due dei personaggi più rappresentativi della serie, si siano trasformati da semplici criminali in figure chiave della Yakuza. L'errore più grande è pensare che la serie targata Siga sia una sorta di GTA in salsa di soia, ma Yakuza è invece dotato di una propria ed inimitabile personalità. Lo svolgimento di Yakuza ricorda molto più da vicino quello di un gioco di ruolo dall'inconfondibile stile giapponese, un JRPG che nel sistema di combattimento si trasforma in un action, che richiama sfacciatamente i picchiaduro a scorrimento degli anni 80 e 90. Il gioco è essenzialmente composto da una serie lineare di missioni principali, sempre ben visibili sulla mappa e suddivise in diversi capitoli. Tra una quest principale e l'altra è possibile dedicarsi alle innumerevoli attività collaterali presenti, incluse quelle che il gioco chiama sub-stories, ma che sono missioni secondarie a tutti gli effetti e di primissima qualità. Mentre ci sposteremo per la mappa non mancheranno nemmeno i tipici combattimenti casuali, ovvero tutta una serie di energumeni che per un motivo o per l'altro vorranno pestarci senza scrupoli. In una bolgia di emozioni, cazzotti e divertimento tipicamente nipponico c'è un aspetto che Yakuza prende dannatamente sul serio, ed è la sua trama principale, di certo tra le migliori viste nella serie perché è molto più asciutta delle precedenti, ma non per questo meno incisiva, grazie ad una progressione intelligente che non corre troppo veloce e ne ristagna per molto tempo. Il ritmo generale è come sempre tutto in mano nostra, starà a noi decidere cosa fare tra una missione principale e l'altra, nonché quanto dilungarci in ogni capitolo. In Yakuza 0 i punti esperienza si ottengono in base al denaro guadagnato. Sono stati eliminati infatti i punti esperienza dei precedenti giochi, per fare spazio a un sistema completamente nuovo, basato totalmente sui nostri introiti. Tutto il denaro confluisce in un unico portafoglio cui è possibile attingere in totale autonomia, sia per accrescere la nostra forza che per divertirci in giro, oppure per investire in qualche altra attività. Lottare, specialmente se in modo efficace, è inoltre parecchio remunerativo. Del resto, ad ogni mossa andata a segno guadagneremo un corposo corrispettivo in denaro. Quanto agli stili di combattimento, poi, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Entrambi i personaggi hanno infatti presto accesso a tre diversi modi di combattere. Oltre al classico stile da rissa, Kazuma potrà imparare a boxare, con mosse che gli permetteranno di incassare anche molti più colpi del normale. Majima, invece, oltre al classico stile da strada, potrà affidarsi totalmente alla sua inseparabile mazza da baseball e a un'altra tecnica che ricorda molto da vicino una sorta di capoera. I moveset possono essere cambiati liberamente nel bel mezzo del combattimento, ed ognuno è dotato di un albero delle abilità espressamente dedicato. Accanto alla storia principale, completabile in circa 30 ore, Yakuza 0 offre inoltre un numero impressionante di attività collaterali, tra partite a bowling, minigiochi musicali e immancabili tornei di lotta. Tecnicamente, Yakuza 0 si difende più che bene. Nonostante in patria, sia uscito anche in versione PlayStation 3. Si nota infatti che alcune texture non sono all'altezza delle altre e che persiste una semplificazione di fondo delle geometrie. Ciò nonostante, i colori vividi, i volti dettagliati, i tatuaggi rituali e tutti i particolari che vibrano tra le strade rendono invisibili limiti e imperfezioni, sostituendoli con una sana e rinfrancante immersività all'interno di un vero e proprio paradiso orientale. Tanta bellezza visiva mantiene comunque un'ottima stabilità. Yakuza 0 gira quasi sempre fisso a 60 frame al secondo e vi assicuriamo che durante i combattimenti una simile fluidità fa una certa differenza. Yakuza 0 forse è davvero il miglior capitolo della serie, ma c'è qualcosa che gli impedisce di essere anche il più incisivo e rimarchevole. Tutti i fan della saga si ritroveranno davanti a un gioco unico, pieno di sfumature e zeppo di contenuti. Yakuza è insomma in grado di lasciare qualcosa in più di una semplice botta ad adrenalina. I suoi personaggi così umani, così reali, anche nelle loro innumerevoli follie trasmettono un'empatia che è impossibile trovare altrove, per un'esperienza di gioco che almeno una volta nella vita vi auguriamo di vivere sulla vostra pelle, proprio come un tatuaggio criminale a coprire l'intera schiena. Un'opera speciale insomma, che difficilmente vi deluderà.